Facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Prova in porta, colpito il pallone dal difensore. Sistema il pallone, pronto per il corner. Attenzione! Ha dimostrato una tecnica pazzesca. Non è da tutti segnare un gol del giro.